Quindi questo numero che sarà attivo da domani pomeriggio potrà chiamare con un orario dalle 9 di mattina alle 12 e dalle 15 alle 18, quindi sarà attivo per 6 ore al giorno, dove il cittadino che è malato si può rivolgere avrà di fronte un professionista, un medico, che gli spiegherà cosa è più opportuno fare se uno è in quella condizione di essere infettato. E se ha patologie, se in qualche modo magari ha patologie particolari, quindi si potrà confrontare su questo tema, ma soprattutto per stare vicino a chi incappa in queste problematiche. E' un fatto anche psicologico perché è capibile che chi si trova malato a casa non può uscire e non ha magari subito la visita del medico e magari non sa come muoversi, Quindi questa voce gli aiuterà a dire come è più opportuno nel suo caso muoversi o comunque attiverà anche eventualmente gli organi competenti, l'Asur, il medico di base o tutto quello che può attivare e può dare il consiglio. Credo che questo servizio, gratuito ovviamente, sarà solo un consulto per avere dei consigli su come muoversi. Grazie. Grazie. Grazie.